L'ONU suona l'allarme sulla situazione in Ucraina, il timore e il ritorno a una guerra su vasta scala, secondo l'assistente segretario generale agli affari politici Jens Anders Toiberg-Franzen. Tra gli scenari evocati quello di un conflitto congelato e persistente che manterrebbe lo status quo nell'est per anni. La 26esima riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sulla situazione in Ucraina era stata chiesta dagli Stati Uniti dopo che NATO e OSCE avevano constatato l'arrivo di convogli russi, menzogne secondo il rappresentante di Mosca all'ONU. Il governo ucraino ha deciso di riposizionare i propri militari nel timore di azioni imprevedibili dei filorussi. Rafforzata in particolare la sicurezza nella città portuale di Mariupol, dove Kiev teme un'offensiva degli insorti. A Donetsk forze governative e separatisti si sono di nuovo affrontati mercoledì. Il cessate il fuoco del 5 settembre è ormai costantemente violato. Le vittime in sette mesi di conflitto sono oltre 4.000.